Oggi è stato veramente un incontro fruttifero per tutti i cittadini che hanno partecipato e anche per i cittadini che sono rimasti fregati da questo decreto svuota banche. Ma la cosa più importante che dobbiamo dire e che i cittadini devono apprendere è il fatto che devono fare due cose specifiche. La prima è informarsi e la seconda è denunciare. Tutti i cittadini, ma soprattutto i cittadini che sono rimasti fregati, devono capire che devono denunciare le malefatte che hanno subito. Quindi informarsi e denunciare.